Sarò una testa dura, ma non credo all'Islam moderato, non nel senso che non esista o non si professi, ma nel senso che quello che sta succedendo in Italia, se noi lo guardiamo bene, fa sì che tutto questo mondo moderato non interessi nulla e che il fenomeno a cui assistiamo abbia due martelli che battono sopra la nostra società e noi continuiamo a difenderli senza capire che stanno cambiando noi. L'integrazione che sta materialmente avvenendo riguarda la nostra capacità di integrarci al loro modello e non la loro di integrarsi al nostro. Allora la parola è la stessa, integrazione, ma io mi metto dall'altra parte e la combatto. Questa integrazione è sbagliata. Abbiamo pubblicato oggi delle fotografie che riguardano una cosa sacra e sancita dalla Costituzione, la preghiera, il culto di una religione. Ci hanno fatto una testa così per diventare un paese laico, ci hanno fatto togliere le croci, hanno cominciato a dire che fare il presepio è una cosa da sfigati. Noi siamo diventati laici per quanto riguarda noi, abbiamo tolto le croci, facciamo il presepio senza dirlo. Poi invece dobbiamo fare il Ramadan nazionale, chiudere le scuole, tutti che dicono queste frasi di circostanza sulla libertà religiosa. Come ci troviamo a vivere questa libertà religiosa? Che a Roma ci sono le transenne, quelle che usano nei cantieri per quando devono rifare i tombini, approfitto per dire a Gualtieri un po' più tombini da rifare, che in centro buche dappertutto ancora, caro sindaco, quelli con la retina verde, solo che dentro ci sono le donne con il velo. Perché? Perché nella cultura islamica gli uomini devono pregare, le donne devono stare dietro questa specie di rete perché se no disturbano gli uomini. Quindi la scena che ieri mi è capitata cinque volte a Roma è vedere delle donne chiuse in quello che per me è un recinto, una gabbia. Allora oggi abbiamo scritto sul giornale, usando la schwa, quella cosa che gli piace alla Boldrini, con gli asterischi per togliere le vocali, abbiamo provato a raccontare questa scena con la schwa, con il politicamente corretto, come la sinistra vuole sistemare le cose, cambiandogli il nome per non vederle. E' sempre venuto fuori donne in gabbia, donne in gabbia, sempre così, non è che ne vieni fuori. Allora se questa è l'integrazione, personalmente credo che il tempo continuerà la sua battaglia per mettere in prima pagina queste foto e dire che si stava molto meglio prima che cominciasse questa integrazione. Buona giornata.